signora adriana merelli nonna di michela moioli che notte è stata per lei è stata una nottata perché ho cercato di stare sveglia ho incominciato alle 2 a guardare la televisione per vedere se c'era qualcosa che è fino alle 4 sono stata di aspettare quando è scesa michela dopo quando è scesa alla fine mi sono messa a urlare anch'io e a piangere di soddisfazione di consolazione ecco averla vista venire giù così bene per suo marito invece che emozione è stata mio marito l'emozione lui l'ha avuta oggi perché è un tipo che è meglio che certe emozioni non le abbia senta c'è un messaggio che vuole mandare la sua nipote in una giornata così speciale cosa posso mandare michela la tua nonna sai come la pensa né che ti vuole sempre tanto bene ciao